Lino Giuliano squalificato dal grande fratello. Sembrerebbe di sì e la decisione assunta da Mediaset dovrebbe essere comunicata fra poche ore. Record assoluto quindi per l'ex concorrente di Temptation Island, che era stato scelto per far parte del cast del reality show condotto da Alfonso Signorini e che prenderà il via stasera. Ma nella prima puntata, in onda oggi 16 settembre in prima serata su Canale 5, non ci sarà. Il motivo della decisione da parte di Mediaset di squalificare Lino Giuliano ancora prima dell'inizio del grande fratello è sostanzialmente la sommossa degli utenti del web. Non tanto, infatti, il commento omofobo che lo stesso Lino Giuliano ha pubblicato sotto in risposta al TikToker Enzo Bambolina. Il commento, infatti, è stato pubblicato diversi giorni fa dall'ex Temptation Island. Il quale, peraltro, si è poi anche affrettato a scusarsi pubblicamente. Le scuse non sono però sembrate sincere non solo ad Enzo Bambolina, ma anche a molti utenti dei social network. Che hanno chiesto a gran voce un provvedimento da parte di Mediaset nei confronti dello stesso Lino Giuliano. Provvedimento che ora è arrivato con la squalifica e quindi l'uscita con ignominia, giusta, del quasi Gieffino. Secondo Davide Maggio, la squalifica di Lino Giuliano sarà comunicata durante la puntata di questa sera del grande fratello.